Borgo Preplanks ha un'anima che dona a chi lo scopre. Ha una storia che si legge nei volti delle persone che ci hanno abitato, nelle case, nei boschi, negli orti, nei prati, nei fiori dei balconi, nel vento della sera che spira forte, forse a voler spazzar via l'aria un po' troppo frizzante della giornata per lasciarla più nuova e fresca. Un'anima, a volte distaccata, fredda, bellicosa, sicuramente complessa, che unisce e a volte divide, in un continuo equilibrio in cui non sai mai chi vince. Un'anima che stimola, esiste da sempre e sempre esisterà. Una cosa è certa, se ti ammalia con la sua bellezza, sarà per sempre.